Si torna a parlare a Taranto della filiera formativa della Nautica, un progetto che cerca di giungere alla fase conclusiva. A tal proposito il consigliere regionale Gianni Liviano ha convocato nei locali della regione presso il Genio Civile in Via Dante a Taranto una riunione alla presenza dell'assessore all'università, formazione professionale e scuola Sebastiano Leo. All'ordine del giorno lo stato dell'arte del progetto della filiera formativa della Nautica che è coerente con l'asset strategico della legge speciale per Taranto approvata in consiglio regionale lo scorso 16 gennaio. L'obiettivo è quello di individuare un contenitore che ospiti l'intera filiera formativa della Nautica con i numerosi laboratori per la realizzazione dei quali un'unica rete di soggetti locali con capofila alla scuola Archimede ha ottenuto un finanziamento di 750 mila euro. È da tempo che stiamo provando a ragionare sulla possibilità di una filiera formativa del mare sul nostro territorio, una filiera formativa nautica e oggi con l'assessore regionale allo studio, gli studi Leo e con il gentile della provincia stiamo provando a fare il punto di situazione però stiamo provando a capire qual è lo stabile migliore e come provare a fornire risposta a questo bisogno. Adesso tocca alla provincia trovare una sede idonea per poter allocare il corso nautico. In realtà la ricerca è già iniziata da molti mesi, ci sono due soluzioni, due ipotesi di lavoro allo studio ed è proprio questo il motivo dell'incontro di questa sera. Una soluzione verte sulla riconversione di un immobile nucleabile all'interno dell'area della SVTAM, dell'aeronautica militare. Un'altra soluzione invece è molto più vasta e riguarda un'area che interessa il maricentro, l'ex centro di formazione della marina militare. È importante per tutta la Puglia ma soprattutto per Taranto. Ci sono i presupposti, ci sono anche le risorse, stiamo cercando di mettere insieme più istituzioni con le quali collaborare. C'è unicità di intenti, c'è intesa, quindi speriamo. Io penso che le condizioni ci sono, quindi possiamo sicuramente ritenerci fino a questo momento soddisfatti, però per essere efficaci ed efficienti occorre una sorta di protocollo di intesa e ognuno ovviamente deve fare la sua parte. Le condizioni, ripeto, ci sono, quindi sono fiducioso. Tenuto conto per forza, tranquillamente avanti.